Colorno, campione d'Italia, una grande rivincita, siamo con Geda Franco, woman of the match, in questa grande... Sì, non te ne sei accorta dal bordo camp? No, non me l'hanno detto. Te lo dico io, grande protagonista comunque della partita, quali emozioni hai provato al fischio finale? Non riesco ancora a descrivertela, è stato davvero emozionante, si è fermato tutto al fischio finale, sentivo solo la gioia. Tu che poi avevi vissuto la delusione di un anno fa con la sconfitta in questa partita contro Val Sugana, oggi una grande rivincita, il primo storico titolo per il Colorno. Ci tengo a dire che nutriamo tanta stima per il Val Sugana, è una grande squadra e lo ha dimostrato anche oggi. L'anno scorso probabilmente peccavamo un po' di inesperienza, un po' di frenesia, ne abbiamo sbagliato tanto, loro sono state brave e ne hanno approfittato. Quest'anno è stato il contrario, ne abbiamo approfittato noi, siamo state brave, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e ce l'abbiamo fatta. Senti già il presidente Iemi alla vigilia aveva detto a Colorno Rugby Channel che c'era una squadra più forte in Italia ed era il Colorno. Il verdetto del campo oggi l'ha dimostrato, siete sempre andati avanti, non vi siete mai fatte superare, questo è stato insomma un segnale. Anche immagino nell'intervallo il vostro coach ve l'abbia detto. Abbiamo lavorato tanto non solo quest'anno, anche l'anno scorso e quello prima ancora e in questo sport sono sempre convinta che chi è più forte vince. L'anno scorso è stato più forte che il Val Sugana, quest'anno siamo state più forti noi e aveva ragione Ivano. Senti ma adesso nel futuro cosa c'è, nel tuo futuro? Adesso nel futuro c'è un attimo una pausa, un po' di festeggiamenti sicuro nell'immediato e poi riprendere gli allenamenti e provarci ancora l'anno prossimo.